Proseguono le attivazioni delle nuove condotte idriche realizzate a Villa Massargia. Domani, martedì 18 maggio, le scuole di Abanoa eseguiranno i collegamenti delle tubature appena posizionate nelle vie Acquafredda, Sassari e Cagliari. Gli interventi nelle tre strade, programmati in una giornata unica per limitare quanto più possibile i disagi, saranno effettuati tra le 7 e le 18. In questa fascia oraria si verificheranno temporane interruzioni e cali di pressione nel centro abitato. L'investimento complessivo che riguarda la realizzazione di 200 condotte ammonta circa 45.000 euro, fondi del bilancio di Abanoa destinati al programma trimestrale delle manutenzioni straordinarie. Lo studio dell'intervento è stato effettuato dai tecnici del distretto 2, competente per il territorio, che hanno individuato le problematiche all'origine di frequenti disservizi all'utenza e programmato gli interventi mirati a migliorare l'approvvigionamento con la sostituzione integrale delle reti e degli allacci che alimentano le singole utenze. I lavori sono stati programmati d'intesa con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Deborah Porrà, che ha un proprio progetto di rifiacimento delle pavimentazioni stradali nelle vie interessate. Le vecchie tubature erano state realizzate in materiali ormai inadeguati, erano numerose le rotture e le segnalazioni di ostruzioni che limitavano i servizi alle utenze. Le nuove reti sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.